Per i medici gettonisti stiamo lavorando per invertire la rotta e già nei prossimi mesi vedremo gli effetti positivi delle azioni che stiamo portando avanti. I dati che sono emersi in occasione di una recente udienza della Corte dei Conti per la parifica del bilancio regionale si riferiscono al 2023, dunque fotografa una situazione che ora è in evoluzione. Ed è quanto sottolinea l'assessore regionale della Sanità, vogliamo ridurre, dice, queste prestazioni ed anche la recente normativa nazionale è in aiuto. Grazie al piano internazionalizzazione e alla delibera adottata dalla Giunta, nello scorso mese di aprile contiamo di abbattere le prestazioni di almeno il 20%, così le ASL potranno appaltare all'esterno solo se dimostreranno che il servizio non può realmente più essere svolto all'interno dell'azienda. Naturalmente occorre anche lavorare per risolvere le cause strutturali del ricorso ai gettonisti, in primis la carenza dei medici. Ancora sottolinea l'assessore, dobbiamo riuscire ad aumentare il numero degli specializzanti, anche aumentando le borse di studio se necessario. E soltanto in questo modo sarà possibile ridurre il ricorso ai gettonisti, che seppur particolarmente oneroso da un punto di vista finanziario, è stata una scelta obbligata per non interrompere l'erogazione dei servizi.